Il commissario straordinario per la ricostruzione di New Orleans dopo l'uragano Catrina, il professor James Blakely, è stato l'ospite d'onore all'incontro organizzato da Action Aid Italia e Cittadinanza Ollus sull'importanza della partecipazione dei cittadini nei processi di ricostruzione post-disastro. C'è sempre da imparare dagli altri. Action Aid è un'organizzazione internazionale che lavora in 40 paesi, quindi noi ci confrontiamo con le esperienze degli altri, con le negative ma anche con le positive. Paesi del nord o del sud del mondo, i nostri colleghi si sono confrontati anche con i nepalesi dopo il terremoto in Nepal. Soprattutto ci si confronta su una questione, la questione della partecipazione. La legge numero 229 del dicembre del 2016 prevede l'istituzione di una conferenza permanente nelle zone interessate dal terremoto, costituita da rappresentanti istituzionali e della società civile. L'associazione Cittadinanza Attiva Ollus lavora per questo sin dal terremoto dell'Irpinia. Abbiamo visto in questo incredibile terremoto, con questa straordinaria serie di sequenze sismiche, come però i cittadini si siano mobilitati in centinaia di realtà, in centinaia di organizzazioni. Questa mobilitazione deve avere una risposta, altrimenti sfocerà continuamente in manifestazioni di piazze, blocchi stradali. Infine la relazione del professor Blakely, che ha ipnotizzato i presenti con l'esperienza del disastro di New Orleans, illustrando modelli di rigenerazione urbana efficaci. Il docente americano, che ieri ha visitato le zone colpite dell'Alto Maceratese, sottolinea le differenze tra le due ricostruzioni. Se in America si è ricostruito tutto in cinque anni, prevede che da noi... Circa dieci anni. La differenza tra New Orleans e l'Italia è che in Italia c'è stato un terremoto, non un'acquazione, e quindi i danni sono anche nel sottosuolo. I danni sono estensivi, molto gravi e sarà molto difficile riuscire a recuperare la situazione da questi danni. A New Orleans abbiamo fatto una ricostruzione a settori, quindi parte a parte. Le aree più pericolose erano quelle che avevano priorità, per evitare un pericolo continuo. E non si può ovviamente ricostruire come abbiamo fatto in passato. Serve una ricostruzione nuova, quindi. Bisognerebbe parlare con le persone che se ne sono andate e riprenderle insieme. Il legno è preferibile al cemento perché il legno si può piegare, quindi è flessibile. Il cemento invece si spezza.